buon ciao io bentornati a tutti dal vostro amichevole nonno della rete da fra il buon evitiamo questa buona bruta del buon p swings ma anche allora sapere come no ma andare in mereta E niente, se volete ci trovate di ogni volta che non c'erano vada, altrimenti vi prendete un paio di fungo e ve li schiattate Le chiappe Punta Luca, cicalone, grande Ah, non ho detto salve a tutti No, 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 andate avanti Oh, è senza gioie proprio Mamma mia, oh, c'era emozione Nessuno ci fa Alzo qui, sei prima le persone No, niente Andate avanti Andate avanti E niente, raga, oh, sono aggiornati sui nostri social, mamma mia, uscirono un sacco di cose favolose Adoro, veramente, raga, vi aspettavo Non lo so, non lo so, questo adoro E' un'esperienza in cui sei diventato No, no, poi, era molto di fare No, no, va benissimo, io non c'era niente di male No, no, è il mio modo di fare No, vabbè, un po', vabbè, lo facciamo stare No, 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 un po' che cosa No, niente, niente Io mi dissocio da tantissimo Ok, possiamo andare avanti? No, no, di seguirci Sì, sì, sì Sì, sì, sì Allora, vi ho visto Sì, mi dissocio da un po' che vuole uscire Vediamo che cavolo c'è C'è dato Zorro che vuole uscire Sì, sì Ah, si apriva così il capo Sì, questa coppa del fuoco Questi accetti Vabbè, diciamo No, che se non è rovinato No, che se non è rovinato No, che se non è rovinato No, che ti posso fare Tranquillamente No, no, quello sì, sta bene Sì, sì, sì E lui, teoricamente 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 No, no, no Troppo, no No, no Teoricamente Volevo arrivare a fare la figura del teoricamente E altri ace Port guys Porto, portoghese La c'è, la c'è portoghese Il succo Dopo 28 mesi di gestazione È nato il 40 kg Comunque è bello Sì, sì Bello comunque Questo era molto carino da tenere Se te lo rimborsavano Comunque lo tenevi aperto Ah, vabbè, sì, sì Per farlo vedere Perché ormai lo so No, non ci faccio vedere Ma ci vuole Ma tu che hai? Vai, vai, vai Io c'è il mio regalo di Natale E vai, vai, vai A te, ma Vai, vai G-Conver, G-Conver Nooo Ciao, ciao A grande richiesta No, non scherziamo A parte tu Ma chi sarebbe? È marzo È morizio Ciao, morizio È una Ichibanjo figure Yes È spettacolo Però? Toei Animation Tutta Spettacolo No, però Credo che sia il pretzel però Di dopo Cioè, dai Non scherziamo Cioè, pure l'istruzione È enorme sta stato Sì, sì, da Bandai Fale cos'è Bellissimo Marzo Eh, vabbè Non è forte Sì, però Veramente È questo buco Chi ce lo paga Il cartone? Ah Meno male che almeno Vedi, li fai tutti in video Li fai vedere Almeno Eh sì, infatti Almeno si rendono Un po' Che dici, questo Che ti avrebbe? Vabbè, una volta uscita La statua Il cartone Allora, tecnicamente Non lo puoi tenere dentro Perché è inutile A me questo non si vede Però C'è il cartone Quindi ti copri cartone Quindi si esce Diventi cartone C'è un figo Il cartone Nel caso dove si prende Mi servono per Impostare le stivanie C'è per fare le figlie Ma poi si escono Non si può sentire No, è sardiniale No, è un po' dietro lo schermo Così Bellissimo Poi è arrivato qualcosa Che non mi aspettavo Anche io Un errore di fabbrica Però vabbè Per fortuna è uno Non sono quattordici Come è già capitato E poi Andavor Colui che si è preso la grazia Di aver dibattuto Stain Non gli ho fatto niente E poi è un giocatore Special edificio Che figo Che figo Che è proprio E lui è Aspetta Nicol Jack Nicholson Jack Nicholson È il mio E' Nicole Kidman Uguale Ma dai no Perché è Nicola Che è Nicole E poi un Friday Night For the King The King The King of Queen Eh vabbè C'è Joker Invece Queen E vado Dove ho trovato un King Un altro Joker Ah Ah Prima le due Ah Prima le tazze Prima le tazze Oh Com'è tazzo il Goblin Slayer Però ogni tanto esce Goblin Slayer Ma nessuno ha pensato Ma il fumetto Il mele c'è Poff Lo penso Bella Figo Ah la basta Non è la basta qua E come si chiama Quell'altro Dove fanno Ah Eh aspetta Ah Quello di Don Flamingo Ah Dressero Dressero Sì perché c'era Ok Don Flamingo E poi Andiamo dopo Se no dopo dopo Andiamo per ordine di Rio È arrivato già Rio si è già arrivato Godzilla 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 Il Godzilla che vomita Ma che bella cosa bella Che l'hanno tolta apposta Comunque Perché se non ti piace Non lo metti Ah per mettere il vomito Poi c'è Vegito Vegito Ah sei già visto ieri Pure Vegito Che poi sarebbe l'altro L'altro C'è l'altro ieri Sì io non c'ero Quindi ho detto ieri Eh che ha Vegito Un sacco di Vegito Vegito Eh vabbè Comunque Che buona La Vegitazione Essere Vegito Questo dove insieme Ha litigato con Ace Questo dove ha litigato con Ace Per uscire A chi doveva uscire prima Tipo Aldo e Giovanni Però un altro gioco Io voglio chiamarmi Patrick Non voglio chiamare Un altro Jack Nicholson Intrusi One Piece 99 A grande misericenza O sarà 100 Per un attimo Non ci ho sperato Sono lui Eh non lo so Magari Poi c'è il kit essenziale Oh essenziale Di Dagen Dreg Dagen Dreg Così questo Importantissimo 20 euro Proprio Si Proprio Buonissimo Buono 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 Consigliatissimo Per passare Ah forse è Vegito Per passare Le tenate insieme Qua abbiamo Gengar Che è uno dei Pokémon preferiti Tra i Psygo Ah è Soprattutto Mimichio E Mimichio Non l'ho visto Si Piccolissimo Mimichio Si Lo già mi ha detto Ieri L'altro ieri L'unica cosa Che non lo abbiamo detto Com'è E' no Ora E' anticipato Si L'abbiamo visto ieri Puris L'altro ieri L'altro ieri Puris L'altro ieri L'altro ieri Si Si Stanno di là Ok E' lui L'abbiamo visto No Bellissimo Il maestro Kakashi 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 Atak Che poi ha la stessa voce È plus ultra Ha la stessa voce Di Mairo Accademia Proprio la stessa Aizawa Si Aizawa E infine Però questa volta In inglese Sì In inglese Giameicano No Giameicano Questo è un'americano Eh si Si In vatti Si E niente Raga Questo è un altro video Con tante cose fighe Ah C'è lui Non ci interessa Tante cose Non lo posso ascoltare Non lo posso ascoltare Andiamo Ma quello Non si uscite Come ci sono No Ah ok Blore Battle of legend Fratellanza dei puni Di cammello No aspetta Siamo Fratelli Della legend Quindi brother Of legend Ah no Questi sono i curibo I curibo Nescono Tipo miliardi Curibo colorato No nel mazzo Ti fai i miliardi Di curibo Vabbè Sono un sacco di box Mi faccio Qua Assai Sono assai Tipo 400 Na Guarandì Di regionale Di Fratelli Di questo Ci sarà un evento Che è forza Fichissimo Eh vabbè Comunque Comunque Tagliamo la testa al toro Eh Dovrebbe essere qui Se non mi sbaglio Che c'è il dragoon starlight Si si No io è lì Il dragoon starlight Parte Parte Da 6 mila euro Ma parte Sì Cosa Sì Vabbè Forse Raga Pensateci Se riuscirà Pensateci Solo Se riuscirà Ok Grazie mille a tutti Per la visione Noi andiamo a lavoro Vi aspettiamo In fumetteria Dallo 7 dicembre Sì 8 dicembre Saremo aperti Fino al 6 gennaio Tutti i giorni Sì anche il 25 Sì anche il 26 Sì anche il 1 gennaio Soprattutto il 1 gennaio Vi aspettiamo Per il torneo Di Fratelli Della leggenda Rivali dai giornati Bella voglio